Donatella di Cesare, buonasera, bentornata a Di Martedì. Allora, la professoressa di Cesare insegna filosofia toretica alla sapienza. Allora, cerchiamo di arrivare al nucleo della storia. Due anni di Meloni, cosa hanno significato? Beh, secondo me hanno significato un peggioramento dell'Italia, del paese, una brutalizzazione. Ma quello che mi colpisce di più è, io ho sentito parlare in precedenza, di ignoranza, incompetenza, eccetera. Però invece a me quello che colpisce è lo smantellamento sistematico della democrazia. Quello che è avvenuto in questi due anni. E io credo che bisognerebbe veramente stare molto attenti perché l'autoritarismo oggi, nel XXI secolo, non arriva attraverso, diciamo, modi e forme eclatanti, un colpo di Stato, cosa del genere, ma arriva, direi, con le zampe di velluto. Cioè non ce ne accorgiamo. Però, però, quello che vediamo... Non ce ne accorgiamo o lo vogliamo? Ma... Cioè... È una bella domanda. Questo modo di fare, abbiamo dato dei tratti, ora lei ci spiegherà cosa significa dal suo punto di vista lo smantellamento sistematico, quindi ragionato, quindi programmato. Sì, intenzionale. E porta qualcosa che l'elettorato, che il popolo, che gli italiani vogliono? Allora, secondo me c'è naturalmente la tentazione del capo, la tentazione di pensare che in un mondo complesso come quello in cui viviamo, in, diciamo, un contesto anche internazionale così drammatico e di fronte a delle sfide enormi, che ci sia appunto il leader, il capo, che con la bacchetta magica riesce, diciamo, a difendere i nostri interessi. Quello che avviene, secondo me, è esattamente l'opposto. Cioè il governo Meloni, secondo me, rappresenta una forma di familismo tecnocratico. Perché? Perché da una parte lei in fondo si è posta in una sorta di continuità rispetto a quello che viene chiamato ormai tecnocrazia, cioè lei ha accettato i poteri delle grandi imprese, dell'industria bellica. Come Draghi, insomma, questo dobbiamo fare, questo facciamo. Ha accettato anche una linea di politica estera assolutamente iperatlantista, molto schierata, nonostante che il paese invece abbia moltissime perplessità a questo proposito. Quindi una forma accettabile dall'esterno. Dall'altra parte c'è, diciamo, questo che io chiamerei familismo, cioè un governo a conduzione familiare quasi da setta e questo volto familiare, familistico, è un po' rassicurante. Quindi c'è un doppio binario. In che consiste lo sgretolamento sistematico delle forme di democrazia dal suo punto di vista? Allora, consiste in quello che noi stiamo vedendo purtroppo oggi in Italia, cioè in un attacco alla magistratura e voglio ricordare, e forse fa bene ricordare questo, che la democrazia, se noi andiamo a vedere anche proprio le sue origini nel mondo greco, nasce proprio nel momento in cui c'è una separazione, c'è la figura del magistrato, è la figura a perno della democrazia. Però vorrei anche aggiungere l'attacco anche alla stampa. Cioè, per esempio, la Premier Meloni oggi non ha tenuto una conferenza stampa. Questa mancanza di confronto pubblico, secondo me, è anche eclatante. Come eclatante è appunto il fatto che venga, come dire, depotenziato anche il dibattito pubblico. Non è solo un attacco al giornalismo. Però c'è una chiave di lettura di Giorgia Meloni. Completamente opposta, se non speculare, alla sua magistratura che invade il campo dell'esecutivo e sono i giornalisti che invadono il campo facendo politica. Però a me sembra che la vicenda dell'Albania, che potremmo affrontare sotto molteplici aspetti, secondo me il primo aspetto è quello umanitario, cioè che cosa diventa l'Italia anche ai nostri stessi occhi, se noi non difendiamo anzitutto i diritti umani. Ma quello che per me è eclatante è la sospensione del diritto. Cioè c'è un atteggiamento che io voglio denunciare, perché secondo me non è stato fatto abbastanza, e sottolinearlo, altro che stato d'eccezione. C'è una sorta di stato, di eccezione, casareccio, familistico, ma c'è, di continua sospensione del diritto. Cioè io sono sovrano, il governo Meloni è il governo sovrano, a noi delle leggi, per esempio europee riconosciute, non ce ne importa niente, le sospendiamo. Ecco questo, secondo me, deve far riflettere ed è una spia dello smantellamento della democrazia. Ma nella democrazia vive anche di alternative e di alternanza. Se dall'altra parte non c'è nulla, si può denunciare tutto quello che vuole, ma resta lei. Giustissimo. Secondo me quello che veramente è preoccupante, insieme all'attacco sistematico alla democrazia, è la mancanza di una opposizione, per esempio, proprio sul problema della migrazione. Noi sappiamo che la destra, diciamo, ha costruito il proprio consenso sulla migrazione. Io credo che la fobia del migrante resterà, continuerà a restare il perno di Meloni. Dall'altra parte, qual è l'alternativa? Cosa dice l'opposizione a proposito della politica migratoria? Ecco, faccio questo esempio, potrei fare l'esempio a proposito della politica estera e molti altri esempi. C'è l'immaginario, ma c'è anche il materiale. Ringraziamo la professoressa Di Cesare.